all'imperatrice maria teresa d'austria la movida non piaceva e così gentili amiche e cari amici e probabilmente per questo motivo e su invito presumo della brava gente di parma viene emesso un editto il 16 gennaio 1746 volto a porre un freno a questa incresciosa situazione si dice infatti nel bando alle persone portate all'ozio e dalla crapola non può negarsi che non serva di un somme grande allettamento l'incontrare che se fanno quasi ad ogni passo anche nelle ore dalla natura destinate alla quiete e dal riposo incontrare dicevamo bettole e taverne le quali a porte aperte li invitino a dar nuovi sfoghi alla loro brutale intemperanza l'esperienza ci mostra infatti gli innumerevoli gravissimi sconcerti e disordini che nascono ogni giorno e specialmente di notte e tempo dall'ubriachezza e dalla crapola sconcerti valevoli a rovesciare ad un tratto oltre il buon governo di una città anche quella pace e quella tranquillità che fanno una specie di temporale beatitudine nei cittadini ecco dunque che si va a imporre agli osti ai abiettolinieri e ai tavernieri di tutti i tipi che in tutto l'anno hanno le loro bettole e taverne aperte la maggior parte della notte a comodo dei crapuloni e di simili altri uomini oziosi sempre disposti al malaffare di rigorosamente chiudere le loro attività dopo il suono una campanella le multe per chi non ottempera non scherzano perché si va dai tre tratti di corda per gli uomini ai tre anni di esilio dei territori lombardi dell'imperatrice per le donne fino ai 50 scudi d'oro per gli avventori un occhio di riguardo dunque per le donne nelle quali peraltro sono coinvolte e con capito la parte di questo stesso editto nel caso in cui si trovino ad esercitare antichi mestieri che spesso e volentieri si accompagnano appunto all'ozio e alla crapola il bando prosegue si probisce inoltre a tutti gli osti tavernieri e bettolinieri compresi quelli che gestiscono i bettolini da soldati dice chiaramente il bando di tenere alloggiare e ricettare si di giorno come di notte anche per brevissimo tempo o dare da mangiare o da bere nelle loro osterie bettolini e taverne non solamente alle meretrici ma anche a qualsiasi altra donna diffamata o sospetta d'essere imbrattata di così fetida pece così si spera di recuperare il buon sonno e la tranquillità dei cittadini di parma il bando come vi dicevo è dato a parma il 16 gennaio 1746 periodo in cui parma è il decennio in cui parma fra il 1900 e mille scusate il 1738 il 1748 si trova dopo la pace di parigi e la fine della guerra di successione polacca sotto il controllo dell'austria in particolare in questo momento di maria teresa nel bando vedete lo stemma così buon riposo a tutti brava gente di parma e arrivederci alla prossima